Un'iniziativa di sport e di aggregazione per rimuovere le barriere socio-culturali tra giovani migranti, rifugiati e comunità ospitanti. Sono stati presentati oggi a Palazzo San Giacomo i risultati di Rebooking, un progetto internazionale cofinanziato dalla Commissione Europea che ha coinvolto oltre 500 giovani in diverse città, fra Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Italia. Lo sport adottato dal progetto è il Kimball, un gioco di squadra cooperativo e inclusivo inventato in Canada negli anni Ottanta. Il progetto Rebooking nasce con l'obiettivo, lo scopo di promuovere l'integrazione dei rifugiati e dei migranti con le comunità locali attraverso l'utilizzo dello sport del Kimball e poi attraverso questo sport che diffonde questi valori di fair play, dello stare insieme, vogliamo dare delle linee guida ai migranti per riuscire ad integrarsi secondo questi valori nella nostra società. In questo progetto noi stiamo utilizzando uno sport innovativo che si chiama Kimball appunto e stiamo sperimentando gli stessi modelli che adoperiamo col calcio attraverso questo sport. Quello che abbiamo riscontrato è che sicuramente questo è uno sport molto più semplice da diffondere perché non è basato sulla competizione spinta ma sulla diffusione dei valori, come dicevamo si può giocare grandi e piccini insieme, donne e uomini. Noi qui a Napoli abbiamo convolto circa 150 ragazzi locali, migranti e rifugiati grazie anche alla collaborazione con alcune realtà territoriali che tutti i giorni collaborano con noi come la futura Soccer Academy, come il centro d'accoglienza Santa Maria dei Monti, come la SD Volley di Secondigliano. Abbiamo collaborato con l'educativa Occhi Aperti quindi andando a raggiungere anche i ragazzi delle zone disagiate di Napoli. Patrocinato dal comune di Napoli il progetto si conclude con un evento sportivo al Vallefuoco di Mugnano, lo stadio del Napoli United che ha coordinato le attività in area napoletana. La cosa più bella è che attraverso questo sport per quello che mi hanno raccontato perché ricordiamoci che qui c'è la presentazione dei risultati quindi so che si sono incrociate persone di tutte le età, di tutte le nazioni, bambini, anziani, ragazzi ed è stata davvero una dimostrazione di come lo sport possa essere inclusivo e come possa davvero superare tutti quanti i confini, tutti i limiti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti